Sì, intanto oggi è stata proclamata una giornata di sciopero nazionale dalle segreterie nazionali della funzione pubblica di CGL Cisle Will per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica ai lavoratori che operano nelle case di cure, nelle RSA, nelle residenze per anziani che applicano il contratto AIOP, un contratto che manca da 12 anni, la cui approvazione noi stiamo chiedendo da 12 anni e fra l'altro la cosa più grave è che la parte datoriale rappresentata da AIOP ha sottoscritto in passato il contratto collettivo nazionale di lavoro piuttosto che con i sindacati maggiormente rappresentativi, con i cosiddetti sindacati gialli che operano al ribasso, praticano il dumping contrattuale e salariale mortificando la vita lavorativa e conseguentemente la vita familiare di questi operatori che hanno dimostrato proprio nel periodo di massima emergenza, nella pandemia l'importanza del loro lavoro, visto che curano e assistono la categoria più fragile in assoluto che esista in un tessuto sociale, quella degli anziani quindi noi oggi siamo qui in linea con le direttive delle segreterie nazionali e in sinergia con il resto d'Italia davanti a tutte le sedi della giunta regionale di tutta Italia oggi si stanno tenendo questi presidi di lavoratori, presidi simbolici appunto per chiedere a tutti i presidenti di regione e qui in Calabria a maggior ragione visto che il nostro presidente ha la duplice veste, riveste la duplice veste di presidente e commissario di intervenire in sede di conferenza Stato-Regione a favore della nostra richiesta che è quella appunto di aprire il tavolo per il rinnovo del contratto ma di aprirlo con i sindacati maggiormente rappresentativi e chiediamo che si prenda in considerazione il comportamento di queste case di cure della parte datoriale anche in sede di revisione delle tariffe e anche dello stesso accreditamento infatti più tardi con i colleghi di CGLUI consegneremo un documento al presidente o a un suo delegato che chiede però con il quale chiediamo proprio questo di tenere in considerazione in sede di rimodulazione delle tariffe e anche dello stesso accreditamento le case di cure che applicano il contratto IOP e che si comportano nelle relazioni sindacali in maniera diciamo legittima tenendo ai tavoli il sindacato maggiormente rappresentativo piuttosto che un sindacato che rappresenta più la parte datoriale che i lavoratori Siamo qui uno sciopero generale proclamato da Will, CGL e CISL per tutelare i lavoratori che lavorano nelle RSA che hanno un contratto con IOP è importante tutelarli perché il loro contratto è fermo da 12 anni in questo periodo si applicano contratti che non ci soddisfano, sottoscritti da sigle non rappresentative queste persone svolgono un lavoro fondamentale di assistenza e cura alla persona e in modo particolare agli anziani e non hanno tutele per cui siamo qui per stargli a fianco e chiedere al Dipartimento Salute e al Presidente dell'Aggiunta in particolare di assicurare i necessari controlli queste sono strutture private, accreditate che operano il regime pubblico è evidente che noi non abbiamo pregiudiziali nei confronti della sanità privata anzi la sanità privata deve affiancare e colmare alcune situazioni rispetto a quella pubblica però le regole devono essere uguali per tutti questi lavoratori devono avere le stesse opportunità offerte ad altri della sanità pubblica e di altri settori privati tutto il rinnovo del contratto IOP RSA che è fermo da 12 anni ma chiediamo anche che IOP mantenga gli impegni che ha preso con le organizzazioni sindacali con Cigelle Cisle Will due anni fa quando abbiamo rinnovato il contratto della sanità privata e si era impegnata a rinnovare anche il contratto IOP RSA con gli stessi criteri gli stessi parametri del rinnovo di quel contratto che abbiamo cercato di assimilare il più possibile al contratto della sanità pubblica proprio perché il nostro obiettivo è stesso lavoro, stessi diritti, stessa retribuzione sono lavoratori che svolgono gli stessi servizi siamo qui perché a questo punto noi chiediamo anche il supporto della regione Calabria affinché ci sia una normativa chiara che nel momento in cui si affidano gli accreditamenti, si rinnovano, si prorogano si crei l'obbligo di sottoscrivere, di rispettare i contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative perché sono gli unici che danno garanzie, tutele e diritti e retribuzione a questi lavoratori in maniera dignitosa e in maniera analoga ai lavoratori della sanità pubblica questo è importante